Stefano Marchigiani, sindaco di Fano, è il nome della lista che Stefano Marchigiani ha composto per presentarsi alle prossime elezioni a sindaco. Un programma composito, molto vario, però il primo argomento affrontato è stato quello della sanità. Noi riteniamo che i sindaci, i consiglieri debbano dai comuni, dalle proprie città, pungolare, stimolare la sanità affinché le cose funzionino anche nei loro territori. Ora noi siamo un caso particolare, la terza età delle Marche si trova, e lo diciamo con spirito collaborativo, come ho ripetuto più volte, a segnalare anche in questa campagna elettorale i disservizi ma anche il depoperamento del nostro nosocomio, che anche a fronte del nuovo progetto di ristrutturazione della sanità regionale del centro-destra deve rispondere a quei requisiti. Quindi salviamo gli ospedali di base, per carità perché tutti hanno diritto alle cure, alla stabilizzazione, ma un ospedale di confine come Fano è vicino a Pesaro, non può essere spogliato delle sue specialità, non può essere ridotto a un pulo ambulatorio. In più ci aggiungiamo, abbiamo bisogno di una casa della salute o casa della comunità, come vogliamo chiamarla, che sgravi il pronto soccorso, perché questa è la legge, siamo sopra i 50 mila abitanti e ce lo meritiamo, una RSA che da tempo deve essere fatta perché le nostre difficoltà di chi non può avere un'assistenza o che grava soprattutto sulla famiglia stanno diventando insopportabili, tante abitanti che lavorano a Fano, un sborso di circa 14 milioni di euro dei privati verso queste collaboratrici e quindi è un tema forte. C'è il tema delle demenze, per cui noi abbiamo detto di essere vicini alla Fondazione Cassa di Risparmio che ha proposto la messa in campo di un centro residenziale per Alzheimer, siamo una città che invecchia e quindi questo va tenuto in considerazione. Non ci dispiacerebbe nemmeno nella città delle bambine e dei bambini anche avere l'ospedale per cure palliative nell'ospedaletto dove si riterrà opportuno farlo, perché Fano insomma con le sue strutture può dare una mano a tutta la provincia, alla regione, senza creare degli scompensi che diventano insopportabili. Marcheggiani, lei ha fatto parte di questa maggioranza, una maggioranza che si è distinta anche per aver qualificato l'immagine della città, ma questo non basta, ha detto occorrono servizi. Occorrono servizi soprattutto in quelle realtà periferiche che sono state un po' trascurate, ovviamente non si può fare tutto, ma insomma l'agenda è abbastanza fitta, se penso a Camminate, Roncosombaccio, Ponte Sasso, la realtà di alcune strade che non è più assolutamente accettabile, di alcuni cimiteri di campagna dove comunque c'è la poetica degli affetti che va rispettata, ma c'è bisogno di una visione, anche quando si fanno interventi di riqualificazione urbana si tratta di capire quanta spesa investire, se è proprio necessario o se prima viene una gerarchia di zone veramente degradate che hanno bisogno di precedenze. E che ci dice in conclusione della sua lista? La mia lista mi rende molto soddisfatto perché gli amici e le amiche che hanno aderito, a parte che le ringrazio, hanno competenze, hanno esperienze veramente interessanti e quindi uno si sente molto ben accompagnato perché nello sforzo amministrativo non si può essere, io non credo all'uomo solo al comando, credo a un collettivo che si deve aprire ai cittadini, alla collaborazione, al terzo settore come ho detto più volte.